Ben trovati alle TG Medesport, ha portato bene alla vigilia della sfida contro il Bari, la visita del presidente Maurizio Zamparini. Il presidente è tornato anche oggi a far visita alla squadra di Iachini prima della sfida contro il Brescia, un avversario definito ovviamente difficile da Beppe Iachini. Il Palermo ha di fatto tutta la rosa a disposizione a parte Hernandez, per lui la frattura Lacostro che lo terrà fuori almeno per un altro mese e ovviamente Angelcovic che è squalificato. Non c'è neanche Di Gennaro però in compenso rientra Lafferty in attacco, farà copia con Dybala, ancora qualche dubbio, Iachini pensa comunque di riproporre la formula con due esterni offensivi. Ma ascoltiamo le parole del tecnico del Palermo, Iachini. Aspetta un'altra partita difficile, sicuramente complicata perché il Brescia è una squadra che è stata costruita per tornare in Serie A, per arrivare a giocare nei quartieri alti della classifica e per qualità di rosa e di giocatori che la compongono, è chiaro che questa è una squadra importante per la categoria. E quindi ci aspetta un'altra tappa da affrontare con il massimo dell'attenzione, della concentrazione e dell'organizzazione di gioco da parte nostra. Sappiamo che vorranno, perché contro di noi tutti vogliono fare magari una partita importante, quindi dovremmo farci trovare pronti in questo senso. Non deve commettere l'errore di guai, lo sappiamo, ne abbiamo parlato con i ragazzi, con la squadra, a pensare che abbiamo fatto qualcosa, perché non abbiamo fatto nulla. Abbiamo solo dato vita a un grandissimo percorso di lavoro, di conoscenza, di lavoro su tutti gli aspetti, sul piano tattico, sul piano dell'organizzazione, della mentalità, dello spirito, nella preparazione alla partita. E su questi fattori dell'unità di intenti da parte di tutto il gruppo si è costruito attraverso dei fatti, una mentalità di gruppo, è un gruppo che sa che da parte dell'allenatore c'è la visione di vedere tutti alla stessa maniera. E a seconda dell'impegno della gara o di più gare che si sviluppano nella partita stessa, l'allenatore prende decisioni sempre e solo per il bene della squadra, della società e del gruppo nel suo collettivo. E tutti sanno, visto che questi sono stati sempre i nostri discorsi che ci siamo fatti all'interno, di dover sentirsi protagonisti. Poi che sia per 20 minuti, per mezz'ora o che sia per 95 minuti non cambia quello che però deve essere l'obiettivo finale, perché in un gioco di squadra, come giusto che sia, non c'è l'io, c'è il noi. Belotti sta lavorando, è un ragazzo che abbiamo portato già sabato scorso un po' sul filo e quindi con timore, tra virgolette, perché sappiamo non era neanche potuto andare alla convocazione della nazionale per il suo problema, è fuori da due mesi e mezzo. Però sta lavorando bene, sta rientrando con il gruppo nei lavori e piano piano sta rientrando a far parte di quello che può essere un nostro discorso anche di scelta, sia iniziale che in corso come i suoi compagni. Il Trapani contro il Latina, una sfida per cancellare la sconfitta interna contro il Siena, anche se con il pubblico che ha tributato un lungo applauso dopo 14 risultati utili consecutivi, però è un Trapani che vuole sicuramente invertire nuovamente la tendenza e dunque tornare a fare punti, anche perché è uno scontro fondamentale per la zona playoff. Il Latina è terza, Latina che ha proprio battuto il Brescia al Rigamonti per 2-0 nell'ultimo turno di campionato. Per quanto riguarda invece il Catania, in Catania che in Serie A affronta il Sassuolo, è una partita determinante, decisiva, forse la più importante della stagione? Oppure, come dice Nicola Spoggi, addirittura la più importante nella storia del Catania? Ascoltiamo. No, penso che sia fondamentale vincere perché è uno scontro diretto e perché io ho fiducia in questa squadra e penso che una partita fuori casa, se c'è una partita fuori casa da vincere, deve essere questa. Quindi speriamo di fare un'ottima gara, di cercare di ottenere i tre punti e poi piano piano pensare alla Juve e al Napoli. Io penso che l'unica strada è il lavoro, lavorare, andare oltretutto, penso che sia la cosa giusta. Cercare di guardare avanti, di sapere che tutti, nessuno escluso, abbiamo commesso gli errori, cercare di, come ho detto prima, di commettere di meno. Per raggiungere l'obiettivo che sicuramente, come ho sempre detto, sarà molto difficile ma sicuramente non è impossibile. No, penso che in questo periodo, oltre alla tattica, che è sicuramente importante, bisogna entrare in campo con la rabbia di guardare la classifica e ritrovarci lì sotto. Quindi se tu guardi la classifica due secondi prima, entri in campo con la rabbia di vederci lì, a me particolarmente non piace. Penso che ognuno di noi deve buttare fuori l'orgoglio e deve andare là a sciogarci, diciamo, come ho detto prima, forse la partita più importante del Catania. Andiamo su trmweb.it, nella sezione sport, dove ritroviamo ovviamente le parole di Beppe Iechini, ma anche il notiziario del Catania, con Salavidio, Torello e Partitella per gli uomini di Maran. C'è anche il servizio La Repubblica in Liberia con Iechini e Baiguera, il consigliere delegato del Palermo, che ha parlato anche delle prospettive future della società con la costruzione non soltanto del centro sportivo, ma anche e soprattutto del nuovo stadio. La programmazione ha due step molto importanti. Il primo è il centro sportivo, che stiamo costruendo nonostante la burocrazia. Dovremmo iniziare i lavori o a giugno o a settembre, dipende da alcune carte che ancora devono arrivare, ma nel giro di un anno dovremmo avere un centro sportivo davvero invidiabile in tutta Italia, con 4 o 5 campi da calcio, con tutta una serie di agevolazioni per il pubblico che verrà a vedere gli allenamenti, o le partite amichevoli, le giovanili per la stampa che avrà un settore dedicato. Quindi una cosa molto bella, la quale teniamo molto. E poi stiamo dialogando con il Comune perché è tornata al Comune l'idea dell'impianto, quindi dello stadio nuovo. Io credo che lo stadio di proprietà sia una cosa di fondamentale importanza, sia per attrarre investitori, sia per avere quell'autonomia necessaria a far sì che una squadra sportiva, professionistica abbia tutto ciò che serve per essere competitiva. Lasciamo la pagina del calcio per aprire invece quella dedicata al football americano. C'è stato il derby nell'ultimo turno di seconda divisione, nel campionato di football americano, con i Cardinals che hanno vinto 14-17 contro gli Sharks. Dunque una vittoria importante per i Cardinals che adesso giocheranno a Catania contro gli Elephants per capire chi sarà la squadra più forte del girone A e comunque della Sicilia. È importante dunque il successo. Ne abbiamo parlato insieme a Marcello Moscato, coach dell'attacco dei Cardinals. Questa l'abbiamo portata a casa con molta fatica. La squadra avversaria, tanto di tappello, sono stati dei temi avversari. Per la prossima partita speriamo di essere la prima squadra in Sicilia. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Medesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it. Non ci sono altre notizie. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie.